Il cavallo che loca ha la sua prima esperienza, stanno mossa valida, rimane in partenza la torre e parte l'Aquila, l'Aquila che va verso il primo San Martino, prima posizione l'Aquila seguita dalla Pantera, Aquila Pantera, Drago, Chiocciola, Oca, Onda, Bruco, ecco l'Aquila ancora in testa al primo casato, Aquila che fa scorrere il proprio Barbaro, seconda posizione per la Pantera, uno spunto del Drago, Drago che è spinto dal caso Fantino, così l'Onda, Loca, Chiocciola e andiamo al secondo San Martino con sempre l'Aquila in prima posizione seguito dal Drago, Aquila, Drago, Pantera, sono le tre contrade che hanno effettuato un'andatura più sostenuta, arriviamo così alla conclusione del secondo giro, sempre con Aquila, Pantera, Drago, Drago che ora è richiamato il proprio cavallo, andiamo verso la terza curva di San Martino con Aquila, Pantera, Pantera, Drago e gli altri che hanno quasi fermato, per cui è l'Aquila che fa l'andatura di questa prova, prova molto tranquilla con molti pantini che hanno provato la partenza ed ecco il rullo che annuncia che l'Aquila viene a concludere la prima prova, con la Victoria a Gintaанatina con